Penso che se Rete Veneta o altre media possano intervenire su questo sia davvero una grande iniziativa, un grande encomio dal punto di vista sociale. Così il direttore dei servizi sociali dell'ULS Settepe de Montana in merito alla campagna che Rete Veneta sta portando avanti per rendere Bassano accessibile a tutti indistintamente con la proposta di istituire un regolamento comunale che permetta di rendere fruibile ogni servizio. Abbiamo cominciato con i parchi gioco accessibili a tutti seguendo l'installazione delle due nuovissime giostrine inclusive a San Vito e al Giardino Parolini. Una terza breve verrà posizionata al Parco Ragazzi del 99. È un po' un sogno di una bambina che si trova su una sedia a rotelle che si è realizzato e dovrebbe essere un po' il sogno di tutti che viene realizzato. Sono perfettamente d'accordo, è un sogno di tutti ma penso che questi siano segni che dovrebbero consentirci di poter ampliare questa iniziativa ma dal punto di vista proprio del nostro pensiero di poter progettare o fare le cose nella nostra abitazione o nell'ambito urbanistico che possa sempre avere questa preoccupazione o questo riguardo verso questo pensiero. Un cambio di mentalità che deve partire dunque dalle singole amministrazioni comunali perché la realtà della disabilità si sviluppa lungo tutto il cammino di vita delle persone con disagio anche dopo la perdita dei familiari. Un percorso insieme alle famiglie stesse, alle associazioni nel costruire il futuro e l'autonomia della persona disabile come per una qualsiasi persona adulta che si deve staccare dalla famiglia così ovviamente l'autodeterminazione della persona disabile non sempre è possibile. È possibile però con la loro famiglia e con le associazioni che le protegge.